e mister allora tutto sommato una bella partita mister una bella cornice di pubblico è mancato il gol che è anche una cosa particolare per i nostri anticipi perché fino adesso negli anticipi di Stadio Radio e Calabria TV le partite non sono mai finite sullo 0-0 partita giocata a viso aperto sia dall'Ocri che dal Castro Villari alla fine il pari lo ritiene giusto oppure ci poteva stare qualcosina in più per la sua squadra intanto anche io devo fare i complimenti alle due tefoserie per lo spettacolo che hanno offerto in questa gara è stata una bella gara una gara vibrante che fino alla fine poteva decretare un vincitore non ci dimentichiamo che noi abbiamo giocato al cospetto di una grande squadra che fino ad ora ha vinto 8 gare ne ha perso una sola il miglior attacco, la seconda e il miglior defesa quindi tanto merito a loro perché meritano la posizione di classifica noi ci siamo atteggiati da buona squadra la squadra che in mezzo al campo anche con qualche ha cercato di troppo Legasi ben in casa, portiere di cara ma oggi Caputo ha fatto una grande partita così come è lungo il nostro esterno è stata una gara che un episodio l'avrebbe potuta sbloccare non è capitato a nessun episodio particolare né da parte nostra magari forse verso la fine quella punizione battuta veloce con Caligiuri è un risultato giusto che accontenta tutti e due e che mette in mostra comunque due squadre che penso faranno parlare di sé fino alla fine